L'omaggio silenzioso per ricordare i due colleghi di Trieste morti durante la sparatoria avvenuta all'interno della questura giuliana. Anche Padova e il suo questore Paolo Fassari hanno voluto rivolgere un ricordo, una preghiera ai due agenti Pierluigi Rotta e Matteo De Menego, caduti sotto i colpi di un giovane dominicano fermato per furto. Non sono momenti in cui sono avvezzo, io normalmente non sono avvezzo a parlare tanto, questi sono momenti in cui men che meno mi piace parlare, sono momenti di riflessione anche perché chi parla ha sempre tanti motivi per farlo. Io mi limito solo a due cose, intanto sono veramente commosso dalla vicinanza che ho avuto in queste ore dalle altre forze di polizia, soprattutto le forze di polizia nazionali ma anche quella locale. I vertici dell'arma e della finanza sono stati ieri moltissimo tempo con me a esprimere la loro vicinanza, ma la vicinanza è sincera perché tutti indossiamo un uniforme al di là del colore. La seconda cosa che mi viene spontaneamente di dire è che qui stamattina, e credo che seguiranno anche nelle prossime ore, ci sono stati tanti cittadini che hanno lasciato un amaggio floreale e lo hanno fatto, per me questo è molto importante, senza dire chi sono. Nel senso che il cittadino che non ha importanza come si chiama ha detto grazie a chi fa il nostro lavoro e questo per noi è la cosa più importante. Non solo le autorità hanno espresso vicinanza alla polizia di Stato, molti e anche i padovani che questa mattina hanno voluto lasciare un mazzo di fiori per ringraziare i poliziotti e il loro lavoro in difesa dei cittadini. Da Palazzo Moroni l'assessore Bonavina ha deposto un fascio di rose rosse, a volte nel tricolore, per testimoniare la vicinanza dell'intera città a Trieste e alle famiglie dei poliziotti uccisi.